ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube innanzitutto mi scuso per il cerotto al dito ma è una lunga storia praticamente ho preso una botta quando sono stata a dubai e quindi ho portato lo smalto scuro per questo motivo per tanto tempo ma adesso ho deciso di lasciare un po più libere le mie mani quindi le unghie e quindi vi beccate sto cerotto no sto scherzando e purtroppo non ho alternative non voglio farvi vedere lo spettacolo e quindi allora in questo video parlando di cose serie vi farò vedere cosa ho creato in questo periodo ho fatto veramente tantissime cose ragazze non le ho nemmeno tutte disponibili perché non ho avuto un attimo per girare un video sono veramente distrutta mi dico la verità però sono molto soddisfatta perché appunto ho ricevuto diverse commissioni e quindi vuol dire che le mie cose piacciono e sono molto 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 felice di questo quindi voglio mostrarvi innanzitutto vediamo da cosa partire partiamo da questi bracciali qui che sono dei bracciali molto molto semplici eccoli qui ve li faccio vedere al di fuori della scatola è un progetto voglio nemmeno dire un mio progetto perché è una tecnica molto diciamo basica è un herringbone realizzato con le twin beads e vi lascio il tutorial nel box informazioni e nelle schede qui in alto in pratica è un bracciale da uomo non so se si riesce a vedere bene il colore è un'ematite non è nero vediamo se forse così non so comunque si è matite con diciamo le perline argentate le classiche perline che utilizzo sempre come chiusura ho utilizzato dei moschettoni in acciaio che ormai sto utilizzando sempre per quasi tutte le creazioni anzi ho anche tantissimi componenti non in acciaio e dovrò vedere un attimino come smaltirli e quindi appunto questi e poi ovviamente anche gli anellini in acciaio e questi sono i due bracciali da uomo poi ho realizzato sempre da uomo questi bracciali qui che vi faccio vedere perché sto per consegnare almeno uno di questi non so quale questo è questo allora questo qui lo vedete un po lungo perché in realtà questo è stato realizzato con il cauccio e diciamo che il cauccio è regolabile in base al proprio polso quindi basta semplicemente tagliare con delle forbici la parte che cede del tubetto di cauccio e infilare appunto la chiusura a spinetta all'interno del foro che è presente appunto all'interno del cauccio questo è molto molto lungo diciamo potrebbe essere quasi un girocollo però è stato realizzato in questo modo è una chiave di violino creata con acciaio inox con una perla da sei millimetri di onice nero e terminali in acciaio quindi tutto in acciaio e ovviamente il cauccio l'effetto sul polso più o meno è così diciamo anche se questo è da uomo poi ho creato quest'altro bracciale qui sempre con una chiave di violino con queste sfere diciamo con queste sfere sempre in acciaio terminali in acciaio e lavorazione al macramè realizzata con un cordino cerato nero anche questo mi piace molto e insomma chiusura in acciaio terminali in acciaio tutto in acciaio quindi questo è l'altro braccialetto che ho realizzato e molte cose che vi mostrerò saranno a tema chiave di violino quindi perché il light motif diciamo di questo periodo poi ho creato questa collanina qui molto semplice una chiave di violino con una perla in onice questa bail che ho creato io in qualche modo con i miei mezzi di fortuna e ho semplicemente inserito una catenina a palline che si chiude in questo modo qui molto semplicemente e quindi appunto questa è la catenina poi ho realizzato sempre altre chiave di violino questa volta sono da donna queste chiave di violino quindi ho realizzate anche altre che però ho già consegnato quindi non ve le posso mostrare e ho realizzato queste due chiave di violino qui che sono in alluminio con con la diciamo il bail il gancio in artistic wire e anche in questo caso utilizzato alluminio per la chiave di violino sottostante e artistic wire sopra con queste perle bellissime in questo verde petrolio perché mi piace tantissimo in camera sembrano un pochino più verde non so verde bottiglia no però sono molto più chiare e tendenti leggermente al teal quindi quella colorazione lì quindi questi sono gli orecchini queste sono due chiavi di violino in alluminio qui ho già realizzato appunto il gancetto fatto con artistic wire mi sa che mi servirà una pinza con le ganasce cilindriche perché risulterà molto 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 più semplice questo lavoro dovrò prenderla quanto prima ci sono diversi attrezzi che devo acquistare poi ho realizzato questa è una chiave di violino così che è uscita fuori poi ho realizzato questo portachiavi qui che è un portachiavi molto semplice con un cuoricino realizzato con le twin beads e delle rocaille che ho montato a portachiavi potrebbe essere anche un gancio per borsa tranquillamente con catenina dorata e anello per portachiavi appunto dorato anche perché ci sono le perline dorate e dei bicono svaroschi che sono questi due qui poi ho realizzato questi orecchini che adesso vi faccio vedere un po meglio eccoli qui li adoro alla follia queste filigrane mi erano state regalate tempo fa da margherita 75 marghe 75 che ringrazio ancora e saluto e in pratica sono delle filigrane veramente molto belle e sono dorate anche se la tonalità è leggermente diversa però mi piace veramente tantissimo l'abbinamento e poi l'accostamento con la crisocolla che mi piace moltissimo come pietra quindi questo è il risultato e ho applicato poi delle monachelle in acciaio dorato galvanizzato eccole qui erano quelle di pietre minuterie se non erro e appunto questo è il risultato finale che sbrelluccica mi verrebbe il nome mi viene in mente il nome di una nota casa però che fa gioielli appunto però evito e diciamo che andiamo avanti allora andiamo avanti e vi mostro in realtà ho anche altre chiavi di violino che però stanno si stanno lucidando in una soluzione col bicarbonato e quindi ve li faccio vedere tra qualche minuto vi faccio vedere però questo che è il fiorello occhiello di questo video perché è un ciondolo realizzato con la tecnica embroidery che ho realizzato interamente io sia il cabochon centrale che la lavorazione ovviamente realizzata con perline 8 0 mezzi cristalli da 4 mm 3 per 4 e delle rocaille 11 0 e anche 15 0 sì poi ho creato questa bella anche qui questo gancetto per far passare diciamo i due cordini di coda di topo e non ho ancora chiuso il tutto per questo appunto vi faccio vedere questo è il retro insieme il pelle nero eccole qui adesso vado a prelevare le chiavi di violino dalla soluzione ve le faccio vedere subito eccomi qui allora oltre a questi qui che praticamente devo ancora montare sono altri orecchini sempre con la chiave di violino in alluminio e le perle da 6 mm sul verde eccole qui però queste sono scusate però queste sono state montate con del rame ho realizzato questo completo che mi è stato richiesto e prima di consegnarlo ve lo faccio vedere questa chiave di violino sempre il rame questo è il rame puro eccolo qui così ve lo faccio vedere meglio e questi due orecchini che in realtà gli orecchini li ho montati ma li devo ancora martellare quindi le chiavi di violino diciamo non sono completate però comunque diciamo questo è l'effetto della pariur con questo anello qui ho realizzato la chiave di violino in rame e ho poi fatto questi avvolgimenti intorno appunto a una base composta da due fili di rame in questo modo l'anello è anche regolabile qui ho martellato così la chiave di violino diciamo non si muove e questo è il risultato finale poi ho realizzato anche questo anellino qui che vi faccio vedere indossato con una pietra a forma di cuoricino con appunto il rame ultimo anellino che ho realizzato è questo qui realizzato appunto sempre in rame naturale e con questo anellino si conclude il mio video creazioni un po' monotematico mi rendo conto però spero che comunque vi abbia fatto piacere che appunto abbia caricato questo video sul canale anche per tenervi un po' di compagnia e per diciamo assicurarvi la mia presenza sul canale lo so che sono un po' allatitante ultimamente però sono stata veramente molto molto impegnata ho sempre i due tutorial da terminare e spero di farlo quanto prima nel frattempo io vi saluto vi mando un bacio grandissimo e vi ringrazio per la visione di questo video vi ringrazio anche tantissimo perché abbiamo superato i 34.000 iscritti e 4 milioni oltre di visualizzazioni grazie veramente dal profondo del cuore grazie a tutte le persone che in questi anni hanno continuato a credere in me a sostenermi a sopportarmi in tutto con messaggi, gesti d'affetto anche solo un commento una visualizzazione insomma tutto quello che avete fatto per me vi ringrazio tantissimo di cuore e ci vediamo presto un bacio dalla mia chiave di violino mi raccomando mettete like al video e iscrivetevi al canale ciao alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.